Un ragionamento sul lievito madre che comunque è un apporto che normalmente con il lievito di vera non ci si può confrontare. Voglio dire, il lievito madre porterà una digeribilità, un profumo, un gusto che farà contraddistingue la pizza in tutta l'Italia, cioè non è la pizza di Bosco Renato, neanche di Sorbillo, secondo il punto di vista il lievito madre è la nuova frontiera, la nuova sfida per tutti. Il lievito madre è vita all'interno di un impasto, ogni farina che utilizzo ho una percentuale diversa di utilizzazione del lievito madre, porto in acidificazione l'impasto per portarlo alla massima digeribilità per i profumi, per il gusto e soprattutto perché il lievito di birra, essendo un ceppo, apporta poco profumi e gusti a un impasto. Un lievito madre, essendo una coltivazione di lieviti, mi apporta più gusto, più profumi e quello che è l'obiettivo del pizzaiolo è dare gusto e profumo e digeribilità.